Paese che vai, piatto che trovi e ricetta che trovi. Noi siamo qui in questa ostaria molto carina e il piatto di Ternova da Sibari che si trova su tutte le guide è proprio questo, ovvero lagane, ceci e filocchietto selvatico. Ingredienti per quattro persone, quanti grammi di pasta fatta in casa? Si, si fatta in casa, qui abbiamo 500 grammi di pasta ottenuti con 400 grammi di farina e acqua. Si fa un impasto non molto morbido, si stende la sfoglia e si taglia. A coltello, quindi taglio irregolare. Sì, abbiamo questo risultato qua. Poi 200 grammi di ceci, peperoncino rosso dolce, finocchietto selvatico e aglio. Passiamo alla preparazione. Sì, allora abbiamo già sbollentato il finocchietto selvatico, schicchio d'aglio, poi aggiungiamo il peperoncino, mezzo cucchiaio. Come uno lo vuole rosso. Ma è molto piccante, questo è dolce, dolce. Dolce, dolce, dolce. C'è chi lo preferisce piccante però. Aggiungiamo il finocchietto selvatico e alla fine aggiungiamo i ceci, 200 grammi di ceci. Nel frattempo che bolle, diciamo, la salsa, il sugo, il sughetto, buttiamo la pasta. Quanto tempo di cottura ci vuole per la pasta? Tempo di tornare a galla, insomma, è pasta fatta in casa. Intanto tu sei? Adele. Adele, cosa stai facendo? Le frittelline di patata. Ma non è un piatto tipico di Terranova? Ah, anche questo è un piatto tipico di Terranova. Quindi le frittelline di patata. Laga di Ceci e Finocchietto Selvatico, leggevo su una guida, che è un piatto tipico del 19 di marzo, per San Giuseppe. Sì, 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 San Giuseppe. Voi lo avete nel vostro piatto del giorno, nel vostro menù del giorno? Di solito sì, di solito sì, però va tanto nel periodo di San Giuseppe a marzo. Ci vuole l'acqua anche della pasta, perché deve venire un prodotto brodoso, non è molto asciutta. No, no, un po' di brodo ci deve essere, perché è pasta in brodo, diciamo. Ah, è un piatto in brodo. Un piatto in brodo. Naturalmente la mettiamo in un contenitore di terracotta, perché è quello che ci vuole. Eccolo qua, il piatto tipico di Terranova da Sibari, ovvero l'agane, ceci e Finocchietto Selvatico. Ripetiamo gli ingredienti per quattro persone, ovvero 500 grammi di pasta fatta rigorosamente in casa, l'impasto è fatto di farina e acqua, tagliata poi a coltello, giusto? 200 grammi di ceci, Finocchietto Selvatico, peperoncino, olio e due spicchi d'aglio. Bene, siamo a Terranova da Sibari, quindi se venite qui, venite all'Osteria, quindi l'agane, ceci e Finocchietto Selvatico. Grazie.